Cecchini ovunque, prima devo occuparmi di loro. Sono troppi sgherri qui, ma potrei creare un diversivo con una ragnatela ben posizionata. Continuano a parlare di attrezzature. Cosa nasconde Fisk? Quel cecchino è protetto da una guardia. Dividi e conquista, dice il saggio. Fireman! Una volta non la voce, la fische! Piantalo di saltare e sta fermo! Fischio a pezzi! Fischio! Fischio a pezzi! Fischio a pezzi! Fischio a pezzi! Il ragno è di nuovo inincognito. Il ragno è di nuovo. 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 è di nuovo. Il ragno 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 è di nuovo.